C'è il grande calcio, c'è la grande gioia, c'è la paura, poi è ritornata la determinazione e poi anche un po' di giustizia, un po' di giustizia che questa squadra non aveva mai avuto. Oggi il dio del calcio si è ricordato della terna, non era possibile una partita in controllo e abbiamo preso il 4 a 2, erano tre minuti che non riuscivamo a uscire fuori da… c'era un'aria strana, abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo, dimenticandoci un giocatore di calciare da solo libero dentro l'aria, pazienza. Però questa è la ternana, la ternana del cuore che non si arrende mai, solo un grande gruppo, questo è un elogio che fa i ragazzi perché si sono veramente superati, ci hanno fatto a livello di calcio una prestazione bellissima. E noi che riparliamo sempre dell'amnesia, delle paure, della paura di perdere perché non c'è stata mai partita come abbiamo giocato al calcio veramente, spingiamo a destra, a sinistra, non so Favalli e Ferretti quanti cross hanno fatto, falli dentro l'aria, dopo due minuti in carriera tutto e tutto col portiere, loro in azione fanno gol e reagiamo facciamo quattro gol di fila, quattro gol di montato che penso che non so se l'abbiamo mai fatto in carriera da professionista e che dire, io do quei complimenti alla squadra perché è un grosso gruppo e adesso la palla passa alla società perché è la società che deve fare, qualsiasi cosa che fa io sono a loro disposizione. Grazie.